Il Paradiso, spoiler al 13 dicembre, Brancaccio e Guarnieri trascorrono la notte insieme. L'anteprima della nuova puntata del Paradisi delle Signore, in onda dal 9 al 13 dicembre. Mostra a Matteo che si riconcilia con Marcello e accetta la proposta del fratello di lavorare nuovamente in studio e trasferirsi a casa sua. Enrico e Marta si incontrano segretamente proprio quando la figlia di Umberto decide di affittare il suo appartamento. È proprio lì che lei e Brancaccio trascorrono una notte di passione, al termine della quale si risvegliano felici uno accanto all'altro. Marcello e Matteo si riconciliano Marcello decide di perdonare il fratello e di invitarlo a vivere a casa sua. Intanto Odile era ancora preoccupata per la salute di Portelli e ha deciso di contattare un noto chirurgo plastico per suggerirgli un trattamento alternativo che potesse aiutarlo a ritrovare la sua forma in breve tempo. Grazie all'aiuto di Adelaide, Marta riesce a ritrovare una propria casa, durante la quale finisce per uscire con Enrico, seppur con alcune regole. Intanto proseguono i preparativi per le nozze di Salvo e Delvira, mentre il giovane Gallo rivela alle donne Venere di essere incinta. Matteo parla con Odile Matteo decide di aprirsi con Odile e confessarle che la sua relazione con Maria li crea ancora molti problemi. La figlia di Adelaide cercherà di consolare il commercialista, spingendo i due a un nuovo livello di intimità. Alfredo ha intenzione di confessare di essere innamorato di Clara. Sfortunatamente, l'arrivo di Jerome sconvolge i piani del magazziniere. Ma Perico non si arrende e trova il momento giusto per aprirsi a Clara. A quanto pare, la ragazza mostra una reazione inaspettata in questo momento. Marta ha ricevuto le chiavi dell'appartamento e non ha perso l'occasione di invitare Enrico. I due trascorrono la notte insieme e il giorno dopo si svegliano felici l'uno accanto all'altro. Nel frattempo Adelaide si innervosisce quando nota l'eccessivo interesse di Odile per Matteo. Riassunto degli episodi precedenti nella puntata precedente della SOAP, Marta ha scoperto che Enrico aveva una figlia. Nonostante ciò, il giovane Guarnieri non rinunciò alla loro relazione e decise di avvicinarsi al magazziniere. Nel frattempo il comandante Umberto vendette a Tancredi gran parte delle sue azioni della Galleria Milano-Moda nel tentativo di salvare la banca dai debiti. Nel frattempo, Irene stava cercando di riconciliarsi con Alfredo, ma si rese conto di provare forti sentimenti per Clara. Nel frattempo di